ancora una volta ciò ragazzi e ben ritornati al fantastico video ragazzi oggi torniamo al mare spero che avete visto il video di ieri a tre ora che ve lo lascio in descrizione se non l'avete visto comunque oggi vi mostro vi mostro il paese tutto il paese di arma dove sono nell'hotel però prima alla sigla eccoci e se non vedete quasi niente perché scusate ma c'è il sole comunque stiamo passeggiando qua siamo ancora nell'hotel e andiamo qua come al solito c'è il mare da dietro qua c'è l'hotel torino e porta al bici ma anche in tutte le parti ci sono comunque raga come è dura fare video per youtube però a me piace e quindi li faccio qua scrivete nei commenti che fiori sono ci siamo quasi alla fine della strada se sentite della musica scusate oltre dell'editing è perché c'è mettono la musica qua qua al mare ecco qua si vede bene il mare raga c'è una macchina raga c'è una macchina assento ancora un po' comunque siamo quasi alla fine della strada di qua qua è bar gelateria ligure Mi sono un attimo fermato Con degli amici Bella ragazzi Al bar Ligure Presentatevi Piacere Thomas Piacere Filippo Emo Sono delle ragazze Ciao Presentatevi Su Youtube Ciao ragazzi Ci saranno altri video Qua Al mare O qua Al bar Ligure O con la GoPro Sempre con loro Già lo sai Solo che Non so se uscirà oggi La GoPro O tra oggi O domani Però uscirà Tranquilli E con Quelli di prima Erano I miei amici Emo Aspettiamo che Se passano I miei amici Adesso Possiamo andare Qua sono ancora Al bar Ligure Qua è dove Sono stato A prendere il gelato E ho stoppato Un attimo Perché stavo pensando A una cosa Scusate C'era gente Comunque Facciamo Tutto al giro E poi torniamo Al bar Ligure Però prima Devo tornare In hotel A Prendere tutto Quanto è grande La città Raga Io ancora Non vi ho mostrato Tutto In realtà Alcune cose Non le ho manco Viste io Sembra un supermotard M.I. C'è il mio frarri Vai in 5 minuti Il sepputi Parla In slenzia Non sarà Per sempre Danza Danza Su mie palme Sa che vengo Da niente Gessi Gessi Ragà Comunque Ci vediamo Ci vediamo Poi Ci vediamo Poi In hotel Siamo tornati In hotel Quello Del Primo video Della vacanza Comunque Spero che il video Vi sia piaciuto Oggi avete anche Conosciuto Dei miei Amici E Spero che il video Vi sia piaciuto Scusate L'ho detto Due volte E Comunque Nel prossimo video Spero Di fare Un video Con la GoPro Con gli amici Di adesso E raga Bella